Cazzo dai figa del termometro Mi stiamo cosi Quello è un ambiente No no, qui è un ambiente Non so quanti gradi che sento Mi metto la botte... Cari botte lì qua a me Garant Quella grossa Quattro assi Mi serve qua Sì Questa è una f***a batteria Voglio provare a cambiare la batteria Vabbè Allora Allora Guarda me che ho tolto Dio Becco È che fu una... Una bomba è? Sì Una bomba in tutti i sensi Sì Ma... Cosa è? Sabato 8? No, che sono la sera Eh... Vado a quando cazzo Prossima settimana Sabato questo Dopodomani Sabato 12? No... 8 8 Ma... Come fa? Eh... No, 5 allora 5 Eh... È questo sabato domani Dopodomani Allora dove eravamo rimanuti? Dio Ma la vada una bruza Tocca anche il cancro che va là su Sento Certo Sento che... Il signor Edomodo poteva fare... Un... Un shopping più grande Eh... Ma non ho già messo Ma una gigantesca Mi fa una sega Adesso Ciao E tu Una roba grande Sì, ma... Se ti fai a girarti con una trebbia Non ti fai a segnare con quella Ciao Eh... Non ho già mai fatto pavera l'X9 Adesso C'entra Eh... Filmo Marco Dico... Io che sei insieme a scavatore Però non ti fai a toccare il fusto D***** Ti fai a posare la pina E poi mi ti dico Fermo 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 che sei una bomba Ffff... Una bomba Ah... E mito le spombe va bene Dio... Madonna... Trapuse Adesso non capisci Fuori il camion Eh... Dio... Dimmi quanto Che si vede appena appena Bum 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 Oh... No, non stai... Non stai nè a che ta' Via da teà No, se ti vedere... Perchè lo cito Eh... Ma a me mi serve una spinca però AAAAAH EI 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 Gira, gira l'escavatore Dammi una urtà Eita c***o E' il telefono che rompe anche il marone Ma perché te la telefono su... Bisogna gli sordi Afff... A se gira del coso EI No, che viene su No, che viene su AAAAAH E qui... AAAAAH Ma non mi ha toccato C***o C***o, che ti butti dietro l'escavatore Guarda t***o Ehi, mi vorrei portarlo qua Se si sta registrando Dopo tocchiamo... Ehm... Slico a mare Ma... Faccio anche sarchiaturi No, no, fermo in Fermo in t***o Ok Se ti sposti il camion Vivo, zoppolo No, no Viste a puntare sul camion Eheheheh Eheheh 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 AAAAAH AAAAAH Eheheh 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 E ora facciamo finta che non sei l'escavatore Dai, via Tirami via L'escavatore ti lasci subito E te ieri fermando Eheheh Mi stava a toccarlo Vengo a chiamarti Incorsivo Dai, parla dentro che il cancro va No Viste che se fa usare arco di soffi dentro la busa Aiuto Eheheh 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 AAAAAH Occio, fuori la busa No, 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 no Basta Oh, ascivi Basta, il camion di Eh, si Eh Eheheh F2, si Porto da qualche altra parte Si Oh no Oh, parcaia giusto Fata, guarda Occio Mamma che c***o Mi fa tutto Con tutt'uno quel coso Quella retinzione Un tropego Eheheh Che c***o Ma che roba Millimetro Occio Femo che ti ti senti Occio sconarti con il camion Sì, e dopo E dopo te lo dici Fermo, fermo, fermo Che dai la bomba FEMO Guarda, guarda che c'era Tempio sotto piatto Oh no, c'era bomba Io Ahahah Madonna... Sei fatta! E geranio parecce a te? Ma che vuoi fare? Geranio? Ma quando? Com'è? Marco! In registrazione, se è fatibile che mi... ... facciamo geranio e se senti quello che... ... ti dico, aspetta che metti in viva voce ... e facciamo geranio Sì sì, se puoi fare Sì Se metti in viva voce mi sento caldo ... poi un po' a posto Se potresti fare la camera ti potresti ... manca Così manco ... dopo ti arrivi ... e ti canti tutti qua Ah, ora qua è mille attenzione! E poi facciamo sentare insieme ... alla cisterna dell'acqua Ah, faccio cosa... ... il mio pezzo Ti monto sul primo, ti dai... ... mani No, bisogna che vieni avanti quel camio ... finché Marco fa la camera ti mi dici ... dai vieni in giro con quel camio ... e dopo ti mi dici... ... fermo, fermo, fermo che sei la bomba ... ma ti seguo aiuto ... aiuto, aiuto, c'è una bomba ... cosa qua? ... guarda che cambiavose ... ma che porteri fatto qua ... madonna bestia ... beh Marco ancora a passare per qua ... mi faccio che se vi diventi coso... ... Nino Betto ... guarda che cisterna ... guarda che cisterna ... vai mettete come cisterna ... ma io ... guarda che cisterna ... dico adesso vedere le ore ... Nino Betto ... Marco ... oh ... dai che te c'èmo ... che neanche l'elemento qua Ah, maledetti! Potremmo pensare a una scenetta e farvi? E' che non so fatta noi altri, dai! Vabbè! E ora! Non ti fassi la camera! La camera del... Camera da letto! Una camera da letto devo fare Sì, ma no che dura tanto! No, di solito... Dura poco! Dura poco! Dura subito! Di solito si dura poco! Eh, 3 secondi! Un minuto! Tada! Eccolo! Ah, tu sei io! A casa mia! E' per forza! Maria Vergine! Sì, bella detta! E se ti ancora venire di qua! Oggi, oggi! Eh sì! Ero a store! Ah che roba! Poi che ricinta! Ah, vedi sì perché non si fa più qua! Eeeh... Si è fatto qua! Non sta a toccare la botte! Non sta a dormire! Porca miseria guarda! Questa è un reperto archeologico! E' un altro! E' una bomba! Ma che è una bomba? Certo! Mi scopri la bomba! Ah, non c'era a pianto! No, facciamo che sia... Ehm... Una bomba al plastico! Perché si è rivestita la plastica! Ovviamente! Ah! 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 Ehm... Ah! No, perché penso che la scarica mi contarlo in più! Perché? Perché se piace! Ehm... Hai anche il display con il timer che conta? Ehm... No... Certo! O diciamo che... O diciamo che... Eh... Se sente che ha fatto tic 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 così... No... mmmm ha se fermo ahahah il timer che è senti e potrei fare che ti senti il timer e dopo Marco il cataforum e capo la sveglia fa registrare un attimo suono e in editor si e dopo metteremo la zinda qui due baiote per alto e e finita la serie a me raccomando non stacca l'area bina eh ah no fa una benata non puoi toccare ma ma per finta su un canton però se il canton è a dritto muovi l'ascendente scavator vieni dritto vieni dritto e dopo ferma 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 hai visto Nvena che voi ti ammò su terra bisogna essere più ero piu realistici dai che cosa mi likewise devi fare dai lì passai in dritto ti vai Rückray il muccio vai st Companifica Su qua Bena anche se non ti attocchi tanto messe un po più distante e non se vede queste coseі che ti fai qua Bena nessuno ahhh metta qua bene in canton eh, dammi i soldi qua e il muccio non si vede cosa si può fare e dopo l'Uria, l'Uria umane usupa una pignata l'Uria F12 impegnate bene si si che suono il tocco del cervo armeno Diego non sai cosa devo fare a me devo fare il TUN ah, devo fare il TUN eh, ma se questo è plastica devo fare il TUN eh oi, è una bomba non è del plastica attenzione buono, cos'è si si, riesco da distante senza far vedere vedere il temo che cae la BUNA ah, sì è P costruzione e dopo ti anche dire Artemio madonna cosa vuoi sapere? ti smonti, ti guardi si, quando senti è meno che ti tocchi in fondo? eh, così 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 si o così è meglio no, eh, fa più senza che lo faccia perchè sei dopo la terra è così? si o così si, va bene va bene così però e ora ti Marco ti dici vieni Drio intanto ti decidi muovere il braccio nel momento in cui ti muovi il braccio Diego fa il suono e ti ti dici mi nel frattempo so sempre di venire in Drio ti dici madonna cosa vuoi sapere? e ti scendi ti guardi mi vengo sempre in Drio e dopo ti mi dici fermo fermo che sei qualcosa che sei una bomba che sei una bomba? 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 che fai una sega la bomba? c'è il timer della bomba eeeh il mio rugginio eh certo chi capii? si capito intanto amico solo da fare Don si aaaaaaah mi fruare il prosto camion no 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 dopo ti muoce la bomba prego prego ma aspetta un attimo a farlo aspetta che Ioanni venga tutto in Drio che altro muove il braccio e lo tira su ah ok ora ti aspetta scavare quando vedo Ioanni all'altezza del simbolo dell'acqua faccio Don eh ciao 3 2 1 eh eh perchè si andai via no ora eh penso sonno non so no 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 c'è posso eeeh vorrei arrivare con spandileame tutto cacciami e te fermiamo eh falta falta giusto guarda guarda cos'è strasso i guami cos'è di là con i scambi allora intanto vado avanti fare eeeh shop no no ti vieni qua ah si giusto hai messo hai messo a scavare la bomba Diego a me cosa fa arrivo da fuori e ora eh si ma forza ti dici che l'azienda va a stare chiusa per tre giorni senza nessuno che viene dentro morgo è fuori arrivo è arrivato e come sei che a disinesco questa roba qua posso dico che va messa in sicurezza e basta no poderissimo che l'aveva messa in sicurezza dopo ti accarichiamo sul furgon a ti e ti apporti via distante e beh porca voglia e l'aga eeeh Diego dove passo mi e schiccia f12 tirate via porco e fuori eeeh no ma stappi in rio col furgon Diego non puoi venire qua subito io so eeeh questo merda qua ah non quale ci parte ho un'idea eh fermo che miso arriva qua eh diciamo da distante però ho così tanta paura che mi vado la così tu ti che cuccia e tu parli balbo chi che mi visti a no 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 ah no è Giorgio Giovanni eeeh ok fatta ma qua che metto una vita arriva alla apie si vabbè ti te arrivi caccia se fermi qua nel frattempo arriva Marco madonna cosa si succedere non so attraverso su pasta ho fermo che arrivo proprio con un missile vabbè finimi adesso qua mi chappo dritto sopra i campi e arrivo inciodando ecco e non andiamo qua fermi dove si è a passare questo campo ti attaccano anche quattro frecce madonna si scuro adesso fegua se puoi impostarlo ora si ma sento più per me ma puoi mettere il 7 se io mi appena registrato e ieri e 8 appunto e in pisa il 7 ma se c'erano e dopo mi ti dico e beh ora se ti hai paura eeeh assotteremo tutto e facciamo a botte del gasolio all'altra parte ci siamo finta niente se la facciamo sboccare la facciamo sboccare facciamo tutta una usa è un cratere e poi devo star lavorare ancora di più per sistemare la pucca e anche metterla se li paga le case della farm modifichiamo la mappa con il Giants Editor si paga tutto frapporremo le case con il Giants Editor ahahahah e vaiiii addio scusa adesso noi altri possiamo dire che non è ora a questo punto e facciamo a casa con altri Madonna di farmi, non è possibile che.. che.. Ma quindi adesso arriva un nuovo personaggio nuovo, allora? Non mi sa che ne arriva anche di più di uno La squadra con.. mettiamo l'abito quella dell'apicoltore siamo a posto Vari.. per D'Ongelo che c'è rispetto quella che ha roba per D'Ongelo E come se che si chiamiamo? E neanche il puntatore del mouse.. puttana.. merda Vari qua.. Ciao Divo.. Calme.. Bisogna fare quattro personaggi.. Come quattro personaggi? Mi ero convinto che gli altri mi carichè roba da me e mi scampavo come un mato Dizendo.. ahhh esplode! Nooo.. mi voglia fare che di versere un buso grande E mettere 20 cisterne da qui che.. Tutto.. Tutto.. E magari fai gli artificieri che il discorso l'ha? Eh sì.. ma ora adesso facciamo rivolgere gli artificieri Facciamo passare una giornata e facciamo rivolgere gli artificieri Era tutto esplosivo.. Di che colore sono gli artificieri? Verde.. Verde scuro.. Eh.. Eh giusto.. Eh lui però non sa.. Anche c***o se il verde adesso.. Eh.. Eh.. Qualcuno che si vesta di verde scuro che dico copia E' un'evento raro.. Eh.. E' un'evento raro.. Eh.. E' un'evento raro.. Eh.. Dime che riga il verde.. Ah.. Forse qualche te.. Seleziona colore.. No va tutto quanto smicchiato.. Tipo i colori non li vedo.. Cioè non vedo dettagliato tanto strano.. Non so perché.. Oh con l'aggiornamento crash e continuazione.. Non sopporto più.. Mi bisogna riaviare il computer adesso.. Ma che tu vai..? Beh io riaviare il computer un attimo.. E' un bisogno che finiamo un attimo.. Che la scendina lì.. Lì mi ha dato parole.. Dobbiamo scomparire la bomba e che sia finito.. Che te.. Che tocchiamo fuoco Dio.. Senti Marco.. Marco deve sempre qualcosa nella scenda.. Poco ho un'idea.. Ho un'idea.. 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 Se gli altri facciamo.. Che.. Che portiamo su un campo.. Eh.. Marco non ti posso dire.. E dopo facciamo un'esplosione gigantesca.. Con un buco enorme.. Anche.. E Marco dopo bisogna che metta però.. E chi fa.. Esplosione suono.. La bomba atomica.. E te catti.. Te catti un video della bomba atomica.. Tu te vai in bagno.. Il mio.. Il mio.. Si.. Ho fatto.. Il mio caso di segnare il video.. Per copiare la spessore del video della bomba atomica.. Non ti chieda metto la bomba atomica.. Eh si.. Non ho cosa metto.. Esplosione.. Ghetto.. Ghetto mini ciccio la casa.. Ho i Zeus.. Ecco.. Registrò un Zeus.. Si ma Zeus sarà quando.. 5 anni fa.. E ora.. Te catti.. Un video di un temporale.. Io voglio andare via.. Ma.. Devo finire una frase.. E.. Devo che ricepiamo un attimo.. Da la voce.. Non mi ricordo.. Il tuo problema.. Un attimo.. Si ma.. Ma.. Ma con te un giorno a questo punto.. Il roster maggiore.. Come andare.. Non so.. Il 7R.. Col.. 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 Il 6R.. Il 3R.. 3R.. Infatti.. .. la moglie resta e la metterla avanti eh si si no c'è una cinca e manco rifatta tutto il pacchetto no te gare fatto una modifica al tornio paciucciare ne quattro se non buco un su no adesso fumo un pacchetto in due giorni la madonna c'è qualcosa di meglio prima che ne fumavo uno e mezzo te c'è la pace nella tua vita e ora? cojoni ma tu hai fatto l'oreste senza voce non hai la voce adesso guarda la voce ma così no? si sta canceada ah ecco prima rifalla perchè bisogna prima buttare fuori il coltivallo marco marco ah deve tornare deve tornare da 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 dove sei? sei sentito? come sei Luana la nuova segretaria dei luani insieme a voi marco si a poco cazzo deve aver fatto il personaggio no bu beh agri c'è riuscito si ma si ma è Luana che la voce da 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 più nove e oreste meno due cosa fa su su TS e vado in rio? ah a fuori i dj te i basiti asi questa sera abbiamo fatto una puntata e sul più bello l'abbiamo anche cancellata il gatto hai detto qualche palco cambia il nome e poi noi metto il piedino per uit E' un po' di c***o! E' un po' di c***o! Ma c***o è un po' di c***o! Ti sento scracchiare adesso Marco! Grazie! E' un po' di c***o! Ma non è niente! Parmica qualche problema? E' il mircofono! Si spaglano fuori tutto! Parmica non me ne ricordo neanche così, dweudire! Allora... Adesso fai un ritorno! Geranio mettete una buza Sì, una buza Guarda Marco Artemio era così No, Giovanni si può prendere a sinistra Più verso Pitoca Più verso la... E a cosa? A botta A botta A pitoca A pitoca è fiori Boh, ferma Geranio viene basso dal Geron Ma che vi sposte a scavatore, no? No Ah, non eri inquadrato? Sì, te eri appena inquadrato Vieni, mettete qua Amico, è così da là Là Vabbè, ma intanto Con te ritacchi registrare E' un attimo Che mi va a morse Sì, sì, no E poi partire un attimo Geranio a pupidrio E con questo abbiamo concluso Grazie dell'attenzione E arrivederci E' un attimo E' un attimo